Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV oggi è martedì 14 marzo 2023 una giornata un po' instabile per quanto riguarda le previsioni del tempo e vedremo dopo le nubi stanno facendo la loro comparsa nel cielo che era diventato sereno nella giornata di ieri e vediamo quali sono le notizie che ci dà l'almanacco del giorno vediamo che si festeggia oggi Santa Matilda di Germania era una donna di famiglia principesca sposò nel 913 Arrigo figlio di Enrico duca di Sassonia che divenne poi imperatore dopo la morte di Corrado re di Germania Matilde Matilde condusse una vita improntata alla modestia e alla umiltà fu caritativa con i poveri e solidale con gli ammalati che cosa dire di più ci sono tanti episodi che hanno qualificato la vita di questa santa ma adesso è inutile ricordarlo possiamo dire che condusse una vita piena di merito e di opere sante morì nell'anno 968 appunto fu santificata vediamo anche le previsioni del tempo eccole qua nella grafica del Corriere Adriatico nubi nere su tutta la regione tempo instabile dal pomeriggio sulle Marche con fenomeni anche a carattere temporalesco le massime sono alte però raggiungeranno i 20 i 21 gradi quasi primavera le minime 11 gradi i venti moderati da sud est per quanto riguarda le coste e da sud ovest per quanto riguarda l'interno il sole è sorto alle 6 e 21 e tramonterà alle 18 e 11 ed ora apriamo il resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo che ancora si parla della basilica di Vitruvio ecco qua il titolo l'enigma della basilica di Vitruvio oggi il gran summit in cantiere ci sarà un incontro tra tutti gli enti interessati l'amministrazione comunale ci sarà la superintendenza e ovviamente la proprietà dell'edificio il sogno della basilica di Vitruvio scatena i media nazionali ormai la notizia ha fatto eco in tutta Italia e forse anche al di là dei nostri confini si tratta ora di sciogliere l'interrogativo è veramente la basilica di Vitruvio o non lo è può essere anche che non lo sia alcuni tecnici come per esempio il soprintendente Baldelli e Gabriele Baldelli ha posto se ridubbi gli ha posti anche Paolo Clini che è stato il coordinatore scientifico del centro studi vitruviani oggi sarà presente a questo summit il nuovo coordinatore scientifico Oscar May insegnante di archeologia all'università di Urbino e ci sarà anche la soprintendente al momento afferma il professore Oscar May e non si può affermare né escludere che l'edificio che sia quello della basilica di Vitruvio occorre procedere negli scavi occorre fare ulteriori accertamenti per poi avere la certezza di che cosa si tratta potrebbe anche essere un augusteum oppure come ha detto Baldelli i locali del portico che cingeva il foro romano dalle immagini viste finora l'edificio mi sembra sia rivolto verso via Vitruvio e l'ipotetico forum al momento però è difficile stabilire se si tratta della basilica dell'augusteum o di una curia ha precisato Oscar May quindi siamo tutti impazienti di sapere come andrà a finire questa storia e soprattutto di vedere che cosa c'è ancora sotto il cortile di questa casa in via di ristrutturazione in via Vitruvio a Fano. Vediamo le altre notizie una notizia di attualità è quella invece che riguarda un condominio di Bellocchi a cui l'ASET ha interrotto l'erogazione dell'acqua potabile. Case Erap senza acqua così riapriremo i rubinetti. Ebbene anche qui c'è stato un incontro ieri nell'amministrazione comunale di Fano tra Comune, Erap e ASET per cercare di risolvere questo problema. Qual è il problema? Il problema è che in questo condominio c'è un contatore centralizzato. Alcuni condomini hanno pagato regolarmente le loro bollette, altri non sono riusciti a farlo. Ebbene l'ASET cosa ha fatto? Ha chiuso l'erogazione dell'acqua a tutti. Ebbene questo è un provvedimento che desta qualche perplessità ma ora sembra che da questo incontro sia nata la soluzione del problema. Rimane prioritario, hanno precisato il sindaco Massimo Seri e l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti, il rientro almeno parziale del pagamento delle bollette da parte degli inquilini morosi, i quali devono per forza onorare i loro consumi. Solo così sarà possibile riattivare nei prossimi giorni l'utenza idrica centralizzata a tutte le famiglie per tutelare i bisogni primari, compresa anche l'igiene personale, perché l'acqua non è solo da bere ma anche per cucinare, per lavarsi e via dicendo. Poi il servizio sociale, aggiunto Tinti, è sempre disponibile a verificare eventuali richieste di sostegno dei singoli condomini che non riescono con le loro finanze a saldare tutte le bollette. Un articolo di spalla invece riguarda un suggerimento che la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha fatto alla giunta regionale in merito alla variante di Gimarra. Il consiglio è quello di non firmare l'accordo di programma proposto dall'amministrazione comunale. Un accordo di programma che potrebbe anche riguardare un provvedimento di autotutela, in quanto la scelta fatta dalla giunta rispetto a un progetto impattante e contraddittorio potrebbe determinare appunto seri problemi. Esiste il rischio, ha detto Marta Ruggeri, che l'esecutivo marchigiano sia chiamato a rispondere insieme agli altri a un progetto inutile e dà l'enorme impatto ambientale. E poi la consigliera fa una serie di rilevamenti che in pratica sono quelli che ha fatto il comitato locale che difende l'assetto ambientale di Gimarra, quale per esempio il fatto che il progetto originario su cui è stato fatto il finanziamento regionale doveva includere un collegamento tra Fano e l'ospedale unico di Muraglia, ospedale unico che ancora non c'è. E quindi poi il parere favorevole del casello autostradale di Fenile renderebbe inutile anche la variante di Gimarra, quindi sono delle osservazioni puntuali che devono far riflettere la regione Marche, secondo appunto la consigliera regionale. Ed ora parliamo di cronaca. Parliamo di cronaca perché nella Val Cesano sono stati compiuti diversi furti, ladri in azione anche nel weekend, visitati appartamenti e un negozio. È successo a San Costanzo e a Marotta, banditi in azione nel tardo pomeriggio presi contanti e preziosi. Dunque continua anche in Val Cesano, a Pesaro, a Fano, a Marotta, insomma c'è un'ondata di furti in questo periodo, l'ondata di furti in appartamento che sta generando preoccupazioni e timori da molti in molti residenti. Nel tardo pomeriggio di domenica una banda di delinquenti ha colpito in località Solfanuccio di San Costanzo in una casa bifamiliare vicino al campo di Calcetto. Qui i ladri sono entrati da una finestra che hanno facilmente forzato e hanno rovistato in ogni stanza spalancando armadi, cassetti a caccia di denaro contante e soprattutto di oggetti d'oro. Ebbene hanno svaliggiato in questo caso due appartamenti, uno di sopra e uno di sotto a piano terra. Quello di sopra era abitato da una coppia di pensionati e qui sono stati sottratti un anello e una collana d'oro. E poi quella di sotto, quella a piano terra abitata da un uomo di 60 anni, un single, anche qui è stato rubato, sembra un orologio. Sul posto sono recati ovviamente i carabinieri di San Costanzo e stanno compiendo le indagini. E poi invece un altro furto è stato fatto, una rivendita di arredamento di Marotta lungo la Statale 16 venerdì scorso. Ebbene sono entrate tre donne ben vestite, con un accento dell'Europa dell'Est e mentre la bionda intratteneva, mentre una delle tre, la bionda, intratteneva il proprietario del negozio, l'altra è riuscita a svicolare nel retro e a sottrarre il portafoglio dell'uomo contenente Bancomat e documenti. Insomma, per fortuna poi è stato tutto bloccato e in questo caso i danni sono stati lievi, però insomma questi furti destano molta attenzione e molta preoccupazione. A Durbino le strade, la nostra salvezza, un intervento del Presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, per quanto riguarda la cura e la manutenzione delle strade e anche il ramarico del Presidente perché la Provincia non riesce a sopperire, come faceva in passato, a tutte le richieste che giungono da tutto il territorio che la riguarda. Rivoliamo i finanziamenti per le province, ha detto Paolini, solo così potremo garantire i servizi, altrimenti è meglio chiudere. Ebbene non c'è trippa in questo caso, non ci sono risorse finanziarie e la provincia non può veramente intervenire là dove sarebbe molto, molto necessario intervenire. Vediamo qui a titolo esemplificativo una fotografia, un tratto della strada provinciale 138 tra Auditore e Mercatino Conca, letteralmente devastata dall'ammaloramento dell'asfalto e così poi ci sono tantissime altre strade. Vediamo ancora la notizia di Fossombrone, eccola qua. Corso Garibaldi, cantiere al via, cambi in vista, San Pietrini tolti, varchi elettronici al posto delle fioriere, aperto alle auto H24 nei feriali e il sabato fino alle 13.30. Via Battisti e via Sauro saranno rese pedonali. La giunta chiuderà alle auto dalle 20 alle 5 del giorno dopo nei mesi di luglio e agosto e sono rivisti i permessi di accesso in questa parte centrale del cuore di Fossombrone. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro pubblicata dal resto delle Carlino e vediamo che Pesaro tiene molto in questo periodo alla sua immagine, al suo decoro, al suo arredo, si appresta a rappresentare l'immagine della Capitale Nazionale della Cultura per il 2024 e tutto deve essere messo in ordine a puntino. Restyling in via Curiel e via Passeri, fratelli d'Italia, basta con gli annunci, bisogna agire sul serio e l'assessore Pozzi risponde dicendo stavolta veramente i lavori partano. L'opposizione da una parte mette nel mirino l'ennesimo cantiere più volte promesso e non ancora avviato, dall'altro l'assessore Pozzi dice ci sono stati dei problemi nel reperire la pietra chiara di Trani, una pietra pregiata che deve appunto valorizzare l'assetto di via Curiel e via Passeri, ma adesso è tutto a posto e quindi si comincia sul serio, vedremo poi se veramente questo risponde alla realtà. E per quanto riguarda la viabilità, riecco il casellino, pronto il progetto esecutivo di autostrade, costerà 15 milioni di euro. I lavori verranno affidati alla società interna amplia Ex Pavimental. Il cronoprogramma vuole che si inizi nel 2024, ma entro quest'anno si apre il cantiere della circonvalazione di Santa Veneranda, un cantiere connesso con il casellino che dovrà interagire con il casellino di Fenile, dove il traffico che proviene da sud può circonvallare la città di Fano e superare anche il collegamento con la Statale 16 che specialmente d'estate diventa molto difficile a percorrersi per quanto riguarda il traffico che la intasa. Entro il 2023 si apre le cantiere che la circonvalazione di Santa Veneranda dovremo essere veramente prossimi ad una fase esecutiva, sia per quanto riguarda il casellino di Fenile che per quanto riguarda il casellino di Santa Veneranda. Trasloco accidentato al mercato delle erbe i residenti di Largo Mamiani dicono no, sembrava risolto il problema dello spostamento delle 6-7 bancarelle che operano nel mercato delle erbe a Pesaro, retrostante a Piazza del Popolo, dovevano essere trasferite in Largo Mamiani, ma questa volta i residenti dicono no, non ne vogliono sapere di avere le bancarelle sotto casa e in campo scende anche Davide Ipaso della Confesercenti. Dobbiamo fare presto a trovare delle valide alternative e si fa il nome, l'ipotesi, diciamo così, del retro del vecchio tribunale. Se dovesse arenarsi la questione di Largo Mamiani, dove appunto i residenti hanno detto di no, è stata lanciata in campo un'altra ipotesi, cioè il cortile del retro del vecchio tribunale di via San Francesco, ma bisogna fare prima un sopralluogo e vedere se lo spazio è sufficiente per accogliere le 7-8 bancarelle che dovranno trasferirsi. Ed ora diamo una occhiata a questa notizia curiosa. Ebbene il rito dei 100 giorni eleganti e bellissimi, esame di maturità non ti temiamo. E sono i ragazzi delle scuole superiori che si apprestano a sottenere l'esame di maturità, un punto fermo dell'evoluzione della vita, un punto che poi si ricorderà per tutta la vita, perché è un momento di grandi emozioni, di grandi timori, di paure, ma anche di grandi prospettive. Mancano 100 giorni, è un ride finale del percorso che è durato cinque anni e si concluderà per poi avviarsi verso gli studi universitari. E per questo evento gli studenti, ragazzi e ragazze, si sono messi in tiro. Perfetto. Le ragazze hanno sfoderato i loro trucchi migliori, gli abiti migliori, i ragazzi in giacca e cravatta. Esame non ti temiamo ai 100, è un cartello che hanno messo i ragazzi. Tutti sorridenti, non temono questo esame e vediamo qui anche come si sono preparate le ragazze con gli abiti lunghi, insomma tutti e tutte veramente in grande spolvero. Ci siamo, tra loro e la maturità ci sono solo 100 giorni. Si svolgerà infatti il primo esame della maturità, mercoledì 21 giugno alle 8.30 con modalità identiche che è l'esame di italiano per tutti gli istituti. Ebbene ieri hanno fasteggiato i ragazzi pesaresi delle scuole superiori. Si tratta del campus di Via Nanterre, poi Villa Caprile, la scuola Mengaroni, il Mamiani, il Santa Marta, insomma veramente tutte le scuole superiori. Ed ora diamo invece un'occhiata a questo fatto di cronaca purtroppo che si è verificato ai danni di una partoriente. È morto un bambino mentre stava per essere partorito nella sala parto dell'ospedale Santa Croce. Tragedia in sala parto. Neonato muore a Santa Croce, scatta un'indagine interna. È successo nella notte tra lunedì e martedì scorso nel reparto di ostetricia e ginecologia di Fano. Alla mamma è stato praticato il cesareo d'urgenza, nessun esposto però da parte della famiglia. È successo tutto in pochi terribili minuti nella sala parto. Erano le due di notte e è arrivata questa donna per partorire il suo bambino. Stava andando tutto bene e fin quando durante il travaglio i controlli di routine hanno fatto emergere che il feto aveva un battito del cuore sempre più tenue. Il medico di turno ha subito fatto un cesareo d'urgenza. Purtroppo però le cose non sono andate bene e il bambino, nonostante tutti i tentativi che i reanimatori hanno fatto per cercare di farlo respirare. Purtroppo lui però è deceduto. Dalle aziende sanitarie fanno sapere che la donna giunta in ospedale dopo che si erano rotte le acque a casa aveva trovato, fatto questo per nulla scontato, un'equip già pronta a causa di un'urgenza che si era verificata nelle ore precedenti. Per fortuna. Quindi aveva tutto un apparato pronto per assisterla. Altrimenti ci sarebbero volute anche ancora altro tempo per radunare tutti i medici che dovevano essere necessari ad assisterla. Ma anche questa casualità purtroppo non è stata sufficiente a cambiare il corso degli eventi. Purtroppo questo bambino non gliel'ha fatta. E poi abbiamo anche una presa di posizione della consigliera regionale Michela Vitri del Partito Democratico, la quale pone il suo accento sui ritardi che stanno dilungando i tempi per eseguire il PAP test, quei PAP test gratuiti che sono uno dei provvedimenti più importanti per la prevenzione a malattie veramente gravi delle donne. E poi vediamo ora il Corriere Adriatico. Vediamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. L'apertura è dedicata questa volta a... eccolo qua. L'apertura è dedicata a una prossima inaugurazione. Si tratta del parcheggio di via Risorgimento. Ce n'è voluto, ma alla fine sembra che siamo giunti al termine dei lavori. Nei primi giorni della prossima settimana l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ha annunciato che in questi appunto lunedì e martedì della prossima settimana verrà inaugurato il parcheggio di via Risorgimento. È stata un'opera questa che ha conosciuto ritardi. I lavori sono iniziati nel maggio dell'anno scorso. Dovevano essere conclusi entro il mese di dicembre del 2022. Purtroppo i tempi si sono dilungati. Ci sono poi diverse lettere di richiamo per quanto riguarda i tempi non osservati dalla ditta. E comunque ora siamo arrivati alla conclusione. Si tratta di 88 posti auto che sono stati realizzati bonificando tutto a una superficie che era molto malmessa in precedenza. Vallamenti, buche, pozzanghere a non finire. Ora invece tutto è a posto. Si è emesso anche un poderoso impianto di illuminazione. Ci sono degli alberi che dovranno poi crescere e fare ombra. Comunque la zona è stata riqualificata e quindi altri 88 posti gratuiti sono stati sistemati a dovere. Prosegue intanto anche l'intervento nel parcheggio del Foro Boario dove i lavori procedono pezzo per pezzo in modo da non intasare, da non occupare, dicevo, tutta l'area interessata appunto ai parcheggi. Un condominio senza acqua, di questo abbiamo già parlato, individuata una soluzione nel corso dell'incontro che si è svolto ieri in Comune tra Comune stesso, Erap e Aset. Si parte dal parziale saldo delle bollette, cosa imprescindibile. Gli aiuti di Erap e Aset è in Comune per le persone e le famiglie più deboli. E poi un fatto di cronaca. Ebbene non c'è limite all'intraprendenza di quando uno magari è un po' su di giri perché è in preda ai fumi dell'alcol. In questo caso è una ragazza, una ragazza di vent'anni che nella notte di Capodanno, tra il 2022 e il 2023, insomma la notte di Capodanno scorso, che cosa ha fatto? Ha bevuto un po' di più, è data in escandescenze, insomma ha avuto a che fare con diverse persone e poi addirittura quando è stata arrestata ha rubato il cellulare ai carabiniere, insomma veramente ne ha combinate di tutti i colori. Ma l'avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica. Vediamo anche le notizie dell'entroterra. Monte Folcino purtroppo chiude la banca di Ponte degli Alberi, una spogliazione continua di servizi nell'entroterra. Intesa San Paolo resta a Fossombrone, ma i residenti chiedono di non essere abbandonati. Questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 al TG di Fano TV, occhio alla notizia. E questo è tutto per il momento. A risentirci. Grazie. Grazie a tutti.